The team are going up there, but that is a big mistake, but that is a big mistake, just look at the world around us. Giochi, canzoni, attività di cooperative learning, insomma apprendimento della lingua inglese all'insegna dell'allegria e del movimento all'aria aperta. Sono le caratteristiche del campus che si sta svolgendo in questi giorni alla Scuola Salvatore Quasimodo di Gela, diretta da Maurizio Tedesco. Siamo andati a vedere, giunti sul posto, la prima sensazione è quella di essere travolti da tanta gioia e sentimenti di condivisione. Si tratta di una full immersion nella lingua inglese della durata di due settimane. I nostri alunni sono stati circa 70, i partecipanti, vengono qui dalle 9 del mattino alle 5 del pomeriggio, seguono delle lezioni anche se in maniera sempre giocosa e divertente con i nostri tutors ma delle lingue. Le attività svolte dai ragazzi all'interno del nostro istituto, la Scuola Quasimodo che ospita il City Camp già per la seconda volta ed è stata la prima scuola ad organizzare campi estivi lingua inglese a Gela, sono molteplici. Si parte da warm up mattutini con esercizi energizzanti e poi fanno delle lezioni in classe. Si passa poi alle attività del pomeriggio che hanno carattere ricreativo, sportivo e fanno anche moltissima drammatizzazione. I training tutors che vengono scelti dall'ACLE sono dei docenti laureati, studenti universitari o comunque insomma dei ragazzi provenienti da diversi paesi anglofoni che oltre a possedere un titolo accademico seguono un corso di formazione. Come stai vivendo questa esperienza? Questa esperienza è molto bella, questo è il secondo anno che partecipa al City Camp perché è molto istruttiva ma anche ludica quindi per ogni ragazzo che partecipa è un'esperienza magnifica anche per il rapporto che si crea con i tutor e con tutti i compagni. I giovani tutor sono anglofoni, incontriamo Sofì e Tim che provengono rispettivamente dal Canada e dall'Australia. Io sono dal Canada e devo amare se vengono tornato. Ci raccontano con entusiasmo di questa esperienza che ritengono formativa non soltanto per gli allievi. Tim è a Gela per la prima volta ed è subito stato conquistato dalle bellezze paesaggistiche di Gela. Si soffre un po' il caldo ma dopo il lavoro si può godere di un rigenerante bagno al mare. I giovani hanno un buon tempo, una esperienza molto educativa. Veniamo dal liceo scientifico Alio Vittorini e abbiamo scelto di partecipare a questo campus perché per imparare l'inglese, per parlarlo correntemente ed è anche un'esperienza da fare per i bambini, stare con i bambini, fare un'esperienza nuova. Che esperienza è per voi studenti che date una mano ai più piccoli? Sicuramente è un'esperienza positiva dal punto di vista anche formativo perché comunque parlando ogni giorno l'inglese sia con i bambini sia con i tutors questo può aiutare sia noi che anche i bambini a imparare l'inglese in maniera magari più divertente di come lo fanno a scuola.